Cerimonia molto sentita, quella che ha avuto luogo in piazza 20 Settembre, che ha ospitato la consegna del tricolore al corpo di polizia locale di Pordenone-Cordenons e il giuramento dei 17 nuovi agenti assunti nel 2022. Per la prima volta nella storia della nostra città questa cerimonia è stata portata tra la gente, affinché tutti i cittadini potessero festeggiare un momento così significativo per Pordenone. Fu nel 1871 che il Consiglio Comunale istituì le guardie urbane, che negli anni assunsero il nome di vigili urbani, preposti esclusivamente alla gestione del traffico, a fare multe o a svolgere compiti amministrativi. Dal 2017 a seguito di un nuovo regolamento, gli agenti della polizia locale stanno guadagnando dignità e considerazione tra le altre forze dell'ordine, svolgendo nuovi incarichi a supporto della comunità e dei cittadini. Sicurezza sulle strade, educazione civica nelle scuole, controlli per garantire la tutela dell'ambiente, contrasto al commercio abusivo, azioni antispaccio e antilludopatia. In piazza, davanti alle autorità civili, militari, agli agenti in servizio e a quelli in congedo, il sindaco Alessandro Ciriani ha consegnato al comandante di polizia locale Maurizio Zorzetto un tricolore, simbolo nobilitante di appartenenza e unione a servizio del cittadino. Infine, il momento solenne del giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere con onore tutti i doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'amministrazione per il bene pubblico, operatori del distretto di polizia locale. Lo giurate voi? Lo giuro! È stato un onore, è stata una cerimonia impegnativa, non poca la tensione non solo da parte di uomini neanche da parte mia, perché comunque è stata una responsabilità grande, essendo il primo momento in cui abbiamo schierato le nuove forze, quindi con le incertezze di chi è neofita, ma anche una novità per l'intero corpo e la responsabilità di un momento che non potrà essere ripetuto. La consegna della bandiera del corpo è qualcosa di unico nella storia di un corpo di polizia. La cerimonia si è conclusa con l'augurio rivolto ai nuovi agenti di svolgere con diligenza, passione e spirito di servizio il loro incarico, consapevoli del ruolo che ricoprono a sostegno di Pordenone e dei suoi cittadini.